Il padre separato ha davvero diritto di frequentare i figli piccoli quanto la madre? Scopriamolo! Una premessa, il titolo di questo video è palesemente provocatorio, per due motivi. Innanzitutto, quando si parla di frequentazioni fra genitori separati e figli minori, ogni questione deve essere affrontata partendo dal punto di vista di questi ultimi. Non a caso si parla di diritto-dovere di visita del minore, in considerazione del fatto che parliamo soprattutto di un diritto del minore a mantenere le frequentazioni con entrambi i genitori. Infine, quando si parla di diritto-dovere di visita, si deve considerare la qualità del tempo che i genitori e figli passano insieme, piuttosto che la quantità in termini di giorni e di ore. Di affidamento condiviso, bigenitorialità e diritto di visita abbiamo parlato in alcuni video, che vi riportiamo qui sotto nella descrizione. In questo video parliamo di una ordinanza della Cassazione, la numero 9764 del 2019, che secondo alcuni interpreti avrebbe stabilito il principio per cui, in caso di crisi fra i genitori, i figli minori dovrebbero frequentare mamma e papà per lo stesso tempo, in altri termini con un calendario ripartito 50-50. In realtà la questione è più complessa di quanto sembri. Tanto per cominciare, la Cassazione ha deciso la controversia su un piano prettamente processuale. In primo grado il Tribunale aveva stabilito il collocamento prevalente della figlia minore presso la mamma, con diritto-dovere del padre di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, senza alcuna frequentazione infrasettimanale. A seguito di reclamo del padre, la Corte d'Appello avrebbe però confermato i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado con motivazione praticamente assente, così si legge nell'ordinanza, cioè in maniera critica, senza tenere in alcun conto le argomentazioni svolte dal padre in appello. L'accoglimento del ricorso per Cassazione promosso dal padre, dunque, è dipeso dall'assenza di una specifica motivazione, cioè delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto la Corte di Merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre nella inosservanza del principio della bigenitorialità. In definitiva, la Cassazione non ha affatto deciso la controversia nel merito, né ha stabilito il diritto del padre di tenere con sé la figlia anche durante la settimana, men che meno per un numero di giorni pari a quello riservato alla frequentazione con la mamma. La Cassazione, in buona sostanza, si è limitata assai opportunamente a rinviare la causa alla Corte d'Appello, cui spetta la decisione del caso concreto, e si spera sempre con adeguata motivazione. Qualsiasi decisione in merito, infatti, deve tenere conto dei principi che informano il diritto di entrambi i genitori di mantenere una relazione effettiva con i figli. Proprio con riferimento a tali principi, la Cassazione ha avuto modo di ribadire, sia pure come detto nell'ambito di una decisione di natura squisitamente processuale, l'attenzione che l'ordinamento italiano e comunitario hanno espresso nel tempo a tutela della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio. Presenza essenziale per garantire al figlio una stabilità affettiva ed educativa, oltre che economica. Per rispondere alla domanda iniziale, tuttavia, dobbiamo ricordare che costituisce principio consolidato il fatto che l'interesse preeminente del figlio minore possa consentire una certa sperequazione nella frequentazione con ciascun genitore, nel senso che una ripartizione del calendario 50-50, specie in tenera età, non sempre rappresenta una soluzione ottimale. In ogni caso, come ricorda la Cassazione, nell'ordinanza di cui stiamo discutendo, la Corte di Strasburgo chiama le autorità nazionali ad adottare tutte le misure che ragionevolmente possono attendersi per mantenere legami tra il genitore e i suoi figli. In conclusione, ribadito il punto di partenza costituito dalla bigenitorialità, ogni relazione genitore-figlio richiede una modulazione sartoriale del calendario per la preeminente tutela dell'interesse del singolo minore considerato. Tutela che, talvolta, con adeguata motivazione, può anche giustificare un certo sbilanciamento quantitativo del calendario, purché sia garantita la qualità della relazione. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.